sul Palevangelisti di Perugia. Da una parte la Sir Safety del patron Gino Sirci, dall'altra la Cronogest, la società che gestisce l'impianto. In mezzo al comune di Perugia il nodo del contendere è tornato ad essere la quarta tribuna che era stata promessa al patron della Sir Sirci in tante alla preparazione della squadra di Kovac. È iniziata ufficialmente la stagione della Sir Safety Perugia Volley, ma è iniziata anche nel tourbillon delle polemiche per il Palevangelisti. Al netto degli atleti impegnati alle Olimpiadi, si sono radunati al Palasport Perugino gli uomini del tecnico Kovac per il via alla preparazione precampionato. Tanti sorrisi, compresi quelli dei volti nuovi Podraskanin, Baritosi e Cemokoziev, in attesa delle stelle impegnate a Rio, Birarelli, Buti, Zaitsev, De Cecco e Russell. A fare da contraltare la scia di polemiche, botte risposta sul caso Palevangelisti. Il patron Gino Sirci è di nuovo agguerritissimo con istituzioni e vertici della Cronogest, la società che gestisce l'impianto di Pianimassiano. Tra i lavori di restyling previsto, per il numero uno della SIR, l'assoluta priorità è l'installazione della quarta tribuna, prima promessa e ora di nuovo in stand-by. Viene alimentata ancora un'assurda crociata contro di noi, ha scritto Cronogest in una nota, quando il nostro unico obiettivo è definire un accordo per una soluzione comune alle esigenze di entrambi gli attori in gioco, mentre non è pervenuto da parte di Gino Sirci nessun segnale e volontà a trovare un accordo e concludere positivamente una diatriba dalla quale nessuno può uscire vincitore. Il consigliere regionale Attilio Solinas ha spiegato di aver contattato l'assessore comunale allo sport Emanuele Prisco per convocare una riunione unitamente con il presidente della SIR, oltre ai vertici di Cronogest in modo da trovare con urgenza una soluzione condivisa. Il patron Sirci però è stato categorico, se non verrà subito ordinata e montata la quarta gradinata, al Palasport non si siederà a nessun tavolo.